E ciao a tutti ragazzi al vostro mascherato e ben ritrovati anche oggi per un nuovo video unboxing a tema My Hero Academia ragazzi sempre in collaborazione con Resolution Shop, protagonista Izuku Midoriya detto Deku, sigla! Ed eccoci ragazzi ritrovati ovviamente con protagonista dicevamo Midoriya detto Deku ragazzi marca Belfin ragazzi davvero fatta benissimo la figure si vede già a chilometri ovviamente la scatola si presenta con questa classica finestra trasparente che mostra a tutti la nostra figure statica in PVC in questa posa molto dinamica lateralmente abbiamo ovviamente la stampa del nostro protagonista con la scritta sotto del suo nome lateralmente sempre un'altra inquadratura del nostro Deku con la parte trasparente in plastica dietro abbiamo sempre la finestra ragazzi trasparente che fa vedere la figure con sotto le varie avvertenze e il nominativo di Izuku Midoriya dall'altra parte abbiamo sempre la continuazione della stampa che c'era frontalmente sempre con il nome di Izuku Midoriya e la scritta My Hero Academia è la prima volta che la vedo nella scatola ovviamente questa ragazzi sarà la marca Belfin io la conosco così qui in versione europea sopra abbiamo lo stem e il logo di My Hero Academia sempre con la scala 1 a 8 della nostra figure e sotto colorazione diversa ma sempre il logo di My Hero Academia con il nome del nostro protagonista Izuku Midoriya andiamo ragazzi subito a spacchettarla ad unboxarla avevo già tolto i sigilli precedentemente dicevo ragazzi è una figure molto grande ecco qua ecco il blister di plastica come si presenta la nostra figure ovviamente suddivisa in due pezzi Midoriya è la base adesso andremo ad aprire il tutto e farvela vedere già assemblata ed eccoci ragazzi ritrovati con il nostro Midoriya già assemblato come potete vedere la base ragazzi è abbastanza larga oltre che molto colorata con il nominativo scritto ma la figura ha veramente una posa molto molto dinamica qui in elevazione mentre carica diciamo il pugno ragazzi piccola panoramica come al solito vi posso dire che è abbastanza fedele ragazzi questo è un mustev per chi adora il personaggio ma è sicuramente un acquisto consigliato anche per chi vuole diciamo approcciarsi all'anima di My Hero Academia ragazzi molto molto ben fatta la colorazione sia opaca che lucida a secondo del particolare della tuta adesso andiamo a inquadrarla subito nel dettaglio partendo dallo sculpt facciale ragazzi che è eccezionale fa davvero una concorrenza ferrea alla kotobukiya che ha la stessa scala pressoché della figure capelli ovviamente scusatemi capelli che tendono ad andare sul verde chiaro nelle ciocche che arrivano alla punta dietro il cappuccio come vi dicevo ragazzi è un painting sia opaco che lucido qui per esempio nelle gomitiere è lucido anche qui alla punta dei guanti il resto è opaco molto dettagliata ragazzi molto ben fatta anche la tuta qui come vedete la parte lucida nei guanti mi piace molto questo stacco di painting di colorazione della figure anche qui le ginocchiere con la parte che tende ad andare sulla scarpa è lucida il resto opaco e a differenza ragazzi della kotobukiya la cosa che secondo me è molto positiva è la base come potete vedere molto colorata a parte che è abbastanza larga molto colorata con la scritta di zuku midori e questo rappresenterebbe una m ovviamente qui il piccolo gancio che va a dare lo slancio ragazzi anche questo ben fatto perché non è molto invasivo se prendiamo la figure da lontano come vedete ritorniamo appunto in base per un'altra lieve panoramica eccola qua vedete non è molto invasivo questo ragazzi ripeto un'ottima ottima figure da avere assolutamente sia per chi è fan di mayro accademia e di deku anche per chi non è fan ragazzi ma vuole subito approcciarsi con figure di spessore a questo anime spero ragazzi vi sia piaciuto il video e anche la figure che a detta mia ragazzi è davvero bellissima lasciate ovviamente un like iscrivetevi sempre al mio canale attivate la campanella ragazzi sotto in descrizione trovate il numero il numero perdonatemi il nome del mio gruppo facebook dove potrete iscrivervi anche ragazzi da deku è tutto alla prossima